Salve a tutti, sono Arianna, sono la creatrice e l'amministratrice del blog Libri Leali della Fantasia, dove è importante. Questo è il primo video che faccio, e sulla scia di tanti e bellissimi video che ho visto, di recensioni, di libri, eccetera, eccetera, quindi ho preso coraggio, ho deciso di fare un video, quindi di espandermi, visto che ho maglia di grandezza, non soltanto sul blog, ma anche su YouTube. Quindi, prendendo spunto da Lady Misha, che ha un bellissimo canale qui su YouTube, faccio quelli che sono i video riguardo i libri di marzo, che ho letto durante marzo. Comunque così c'è anche un vastissimo gruppo su YouTube, che si chiamano, non su YouTube, su Facebook, che si chiamano Youtubers che parlano dei libri, e che verrugano una quantità di video incredibile, non è un po' invidiosa, dici, ma sì, ma lo faccio anch'io. Allora, i libri che ho letto a marzo sono cinque, e sono, partendo in ordine cronologico, Monica Lombardi, Three Doors, La vita secondo se è molto. Perdonno, conosco l'autrice, d'ammetto, sono anche orgogliosa, conosco l'autrice. Cioè, non è che conosco J.K. Rowling, o, non lo so, Ken Pollett, o un altro di questi big, big, big del panorama. Però, sono la sostenitrice anche degli autori emergenti, perché, come vogliamo dirlo, anche se lei ha pubblicato un notevole numero di opere, e devo dire che questo è un libro che si legge in un giorno, 142 pagine, se proprio volete saperlo, e che si legge facilmente. Lei è scorrevole, 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 quando parla dei libri, proprio... Fa uno su delle parolacce fantastico, perché lei usa parolacce, ma le usano in maniera magistrale. La storia parla di questo Sam Bolton, che è un famoso attore di Hollywood, e che poi incontrerà quello che è l'amore della sua vita, non nel cinema, non nello star system, ma nella realtà. La trama non era proprio nelle mie corde, però poi la scrittrice è brava, quindi te lo fa leggere, che è un piacere. L'ho letto in un giorno, quindi facilmente, e non è stato pesante, quindi consigliato, sì. Comunque sia, tanto per... già vi uiterete, lo so. Ho anche... me l'ha inviato la scrittrice, quindi... Ho anche... l'adoro. No, va bene. Comunque sia, la recensione di questo c'è anche sul blog, tanto per... se volete leggere qualcosa di più. Secondo libro, La Rosa del Farmacista, di Candace Robb, il primo misterioso caso di Owen Archer. E quindi è una saga, è una saga di tanti, tanti libri, non so quanti, comunque sia. E devo dire che è fatta veramente bene, è fatta bene, cioè... Si legge scorrevole. A me poi mi affascina, ma l'idea di unire thriller e medioevo. Cioè... Cioè, non è che proprio tutti i giorni andiamo in libreria, sì, medioevo, un thriller medievale. E poi, anche perché, non sono una partita di thriller, ma leggo anche thriller. E comunque sia, sai, seguono il modo superante, ovviamente, analisi, laboratorio, va là, scopri il cadavere, prendi le prove, interrugghi, eccetera, eccetera. Mentre qua, ovviamente, non può essere così, perché non esistevano i laboratori, non esistevano i laboratori all'epoca medievale. Quindi, che cosa? Quindi... Ero curiosa di vedere come avrebbe risolto il problema Candace Robb. Anche perché non è così facile, cioè, ambientarlo in quell'epoca. L'indagine è un pochino più analitica, no, è analitica, e ci si mette anche, comunque, sia un piccolo intrencio sentimentale. Però è fatto bene, il mistero si dipana bene, cioè, sembra così di ispirare, di camminare per le storie di York. La York nel 1300, il quattordicesimo secolo, tanto che era. E quindi, poi, secondo me, la società anglosassone medievale era fantastica, nel senso, ma, fascinantissima. Quindi, ancora meglio, c'è l'abbazia, andare all'abbazia, dai farmacisti, dai... le varie cooperative, comunque, si è fatto bene. Quindi, a me è piaciuto, continuerò sicuramente questa saga. Ah, un'altra cosa, questo l'ho comprato con orgoglio su libriusati.it, a un euro. Guarda. Tanto... È praticamente perfetto, tranne di vedere le pagine un pochino gialle, ma questo, sai, per chi ama leggere, sa che è ancora più affascinante l'idea di libro usata. Fa tipo... Uno lo rispira, tipo, veramente, tipo, come se fosse coca, vabbè, lasciamo perdere. Anche di questo c'è la recensione sul mio blog. Terzo libro, l'ho letto sul mio Kindle, che è Cuore di Tenebra, di Joseph Conrad, ovviamente. Famosissimo libro. E dire, non voglio essere un'eredica, però questo libro non mi ha fatto impazzire. Cioè, l'ho studiato per l'università, perché faccio varie letterature, tra cui letteratura in inglese. Però, c'è scritto bene, perché non si può dire che è scritto bene, non si può dire che è noioso, comunque sia questa storia di questo protagonista che racconta la sua avventura dal giovane quando andava a prendere lavoro in Africa, quindi racconta quando era capo di questo battello, poi, comunque, sia quando di percorso tutto il fiume all'interno dell'Africa, appunto, Cuore di Tenebra, le varie tappe che fa, e poi perché è uno scopo, una missione, in realtà. E poi, ovviamente, penso che un pochino tutti i conosciuti, Cuore di Tenebra, comunque sia la trama, è leggibile ovunque. C'è scritto bene, però per me non c'era niente di affascinante che mi affascinasse così tanto da leggere una pagina dopo l'altra, cioè, sicuramente sembrano un'etica, lo so. Lo so se qualcuno mi dice, ma tu, Joseph Corrano, non capisci. Eh, gente, a me, io amo i classici, perché, se no, non studiamo nemmeno quello che studiavo all'università, se no, non avrei fatto quello che faccio, cioè, ammazzo tanto, non sono l'unica, cioè, che io sono l'unica che si fa ammazzo tanto, ma, vabbè, siamo in tanti, comunque sia, amo leggere, amo leggere di tutto, amo leggere di tutti i generi, e anche i classici, però questo non lo so, non mi appassionare per niente. Cioè, comunque sia, vale la pena di leggere, forse sì, o almeno una volta nella vita si legge, però non è una delle letture che leggerei una seconda volta tanto per. Terzo libro del mese? No, quarto libro del mese. Pirandello l'umorismo, anche questo, tra l'altro, l'ho letto perché faccio letteratura italiana. No, 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 vale, non mi è piaciuto per niente questo, cioè, sono eretica anche in questo caso, però non mi è piaciuto per niente, cioè, dai, ho fatto un libro per dire ciò che poteva dire in qualche pagina, cioè, vabbè, l'umorismo, ti sarò chiaro su quello che cos'è l'umorismo, anche se non è poco così semplice come concetto, cioè, non è l'umorismo che intendiamo noi masse, noi playbay come ha più volte sottolineato Pirandello, ma è qualcosa di un po' più particolare, è vero scrittore umorista, non è così diffuso, parla proprio della nascita dell'umorismo, delle radici dell'umorismo, soprattutto nell'alteratura italiana, dà una spiegazione un po' articolata di quello che è il termine, di leggere, c'era però una noia, mortale, cioè, due giorni della mia vita, spregare a leggere questo, vabbè, andiamo avanti, buone! Ultimo libro del mese, Stefania Auci, Fiori di Scozia, tra l'altro ho parlato anche con questa attrice, devo dire che l'ho letto, ho spinto soprattutto dal fatto che io amo la Scozia visceralmente, cioè, io sono patita per la Scozia, sono andata 10 giorni in Scozia, me la sono girata tutta in macchina con dei miei amici, proprio on the road, ed è stata fantastica, bella, lo spirito, cioè, spettacolare, e quindi sono, all'altro, la mia saga preferita, il mio libro preferito è La straniera, di Diana Gabaldon, che è inventato nella Scozia nel 1745, almeno all'inizio, perché poi in Italia siamo a 13 libri, quindi, cioè, tanto, si percorrono vari decenni, che dire, questo è inventato nello stesso periodo all'inizio della Gabaldon nel 1745, la battaglia degli scozzesi inglesi, con Lodern, se si dice così, e quindi volevo leggerlo, volevo leggerlo perché tutto ciò che ha una storia in mentale di Scozia, per me, non devo prenderlo, infatti ho preso anche un libro, sempre un bel bookstore, si chiama Sognando le Aquile, di Mandy Scott, sempre in mentale di Scozia, guardo lì perché è lì che è il libro, e vedremo, punto che sia, concludendo con questo, dico che non mi ha entusiasmato, cioè, ha scritto bene la storia di questi due innamorati, che devono superare questo ostacolo della guerra, poi ci sarà qualcuno a mettersi in mezzo, ovviamente l'antagonista cattivo c'è sempre, però quello che manca per me è la Scozia, cioè, per me voleva essere inventato, non so, Parigi, voleva essere inventato in Irlanda, in qualsiasi altro paese, sarebbe stato uguale, e per me è accettabile questo, perché, cioè, io devo respirare la Scozia, in questo libro, la ballona anche, ci fa respirare la Scozia, e ti immagini proprio le colline frastagliate, i laghi, le persone che camminano per il Limburgo, sotto il grande castello di Limburgo, è fantastico, cioè, e io qua non ho sentito niente di Scozia, quindi, la storia è una bella storia, però, poca Scozia, poca sostanza, per me, ovviamente, e, niente, comunque sia, fa parte di Harlem e Mondadori, dico subito che io sono una che legge tutto, fantasy, a parte, fantascienza e horror, che non sono proprio i miei gusti per il letto, leggo tutto, leggo anche questo, perché per me, un grande libro, un bel libro, non al genere, e non me ne vergogno, non lo dico anche perché, tanto ti guardano male, no? Cioè, io leggo veramente di tutto, leggo anche questi, e alcune volte mi capito di trovare veramente delle belle storie, ho un animo un po' romantico, quindi, tra un'uccisione, non lo so, un viaggio, in un mondo che non esiste, come, non so, con lui George Martin, con le cronache di Ghiaccio del Fuoco, amo anche leggere, storie d'amore. Quindi, questi sono, i libri, che ho letto, a marzo, e ci sentiamo, con i video di aprile. Stay tuned!